Non mi spaventano 300 metri di scalata verticale, ma avevo paura di provare una piccola, sottilissima lente a contatto. Poi il mio ottico mi ha parlato di Focus Dailies. Mi ha detto che Focus Dailies sono le lenti a contatto più adatte a me, fatte di uno speciale materiale che idrata i miei occhi al solo contatto. Confortevoli sin dal primo momento. E poi il Focus Dailies è così facile da usare. Nessuna pulizia, nessun problema. Ha semplicemente un paio di lenti fresche pulite ogni giorno. Chiedile al tuo ottico. Focus Dailies, comfort a contatto. Focus Dailies